Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'abruzzo sulle principali reti televisive nazionali e sulle prime pagine dei giornali per l'aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 negli ultimi giorni. E ora, a tenere banco, c'è anche il botta e risposta sui social tra la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli e il presidente della regione Marco Marsilio. «Lei è una miserabile», scrive il governatore dell'Abruzzo di Fratelli d'Italia commentando il post della giornalista sulla sua volontà di non esprimere solidarietà a Giorgia Meloni per una serie di ragioni spiegate in maniera dettagliata sulla propria pagina Facebook. Dopo le parole shock di Giovanni Gozzini, professore di storia dell'Università di Siena contro la leader di Fratelli d'Italia, infatti, un coro di voci si è alzato in sua difesa ma la Lucarelli, ora anche conduttrice radiofonica di Radio Capital sceglie di non schierarsi al fianco di Giorgia Meloni perché scrive «la solidarietà è un concetto profondo, un'idea, un abbraccio di fratellanza e complicità che non posso concedere a chi ha fatto dell'intolleranza e della divisione il suo credo politico». Al di là di un'opinione più o meno discutibile, il presidente della regione non ha resistito a commentare il post di Selvaggia Lucarelli, spesso pungente provocatrice sui social. La giornalista, infatti, risponde così «Lei, presidente, pensi a gestire la situazione Covid in Abruzzo». «Lei, presidente, pensi a gestire la situazione Covid in Abruzzo». Grazie.